Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Scusatemi se non mi faccio vedere oggi nel video e tutto quanto, ma voglio registrare unicamente un unboxing perché ci è appena arrivata la versione Core Box Sundrop, quindi poi durante il corso dell'unboxing vi spiegherò un pochino di più, di Tainted Grail, la cura della Waken Realms, che ovviamente ringrazio di cuore per averci fornito questa copia qui per la recensione. E questa è la scatola che ci è arrivata a casa, che tra l'altro pesa. Io non sbotto, non l'ho pesata, vi dico la verità, non voglio dire una cifra per un'altra, ma visti tanti altri giochi, secondo me ci siamo su 5 kg, o se non so 5 saranno 4, 4 e mezzo, e all'interno della scatola ricordo essere la versione Core Box con le miniature in Sundrop, quindi l'espansione Monsters of Avalon non ce l'abbiamo, quella non l'abbiamo ricevuta. E ci è arrivato anche questo, che vi faccio vedere, che l'abbiamo trovato dentro, ora poi ve lo apro, a fine video vi faccio vedere tutto, che si chiama Surprise Box. Ho detto, ma cosa c'è dentro? Magari altre cose aggiuntive e tutto, infatti c'è della roba aggiuntiva, ma la cosa che mi ha incuriosito più di tutti è questo ISS Vanguard. Un gioco, un nuovo gioco, un nuovo progetto futuro della Waken Realms, che io sinceramente non conoscevo. Avendoli adorati per Nemesis, perché io adoro soprattutto il genere spaziale e sci-fi, ho detto, ma stanno facendo un nuovo gioco di ambientazione spaziale, e da quello che ho letto dentro il libretto Artbook, che poi vi farò vedere, mi è preso un hype della Madonna. Sono proprio sincero, ora non vedo l'ora che esca, conto i giorni, penso che ci faranno un Kickstarter. Comunque, prima volta che registro un unboxing solo sul canale, perché di solito vi faccio gameplay, più unboxing, più regolamenti e tutto quanto, ma siccome volevo far vedere qualcosa anche nel gruppo Facebook Giochi da Tavolo, mi hanno detto, faccio magari un unboxing, faccio vedere cosa c'è dentro, faccio questo video veloce per farvi vedere cosa c'è dentro, e prossimamente porterò sia recensione del gioco, un Cosa ne Penso, come lo chiamo sul mio canale, più che recensione, e ovviamente un gameplay ben articolato. Apriamolo! La scatola, ragazzi, a parte disegnata da paure, disegni che ci sono ai lati, e questo è un gioco ambientato nell'epoca di Re Artù, però ovviamente rivisitato in chiave gotica, è molto rivisto, reso ovviamente molto fantasy come ambientazione, però diciamo che il periodo storico è quello lì, bene o male il gioco gira tutto quanto intorno alle cronache arturiane, le leggende dei Celti e quant'altro. E aprendo la scatola si trovano intanto... Non conosco il regolamento, eh ragazzi, non l'ho ancora letto, sono sincero, questo sarà prossimo video, però all'interno sono delle schede, che ce n'è un pochino, io non ne userò nemmeno una per come so fatto io, me le ristamperò tutte, che ricordano un po' le schede di Hero Queste, penso sarà qualcosa, vedo c'è scritto tipo note del giocatore, dove annotare magari, visto che è un gioco dalla forte componente narrativa, ci sarà sicuramente molte cose da annotarsi, e poi vedo sotto dei valori tipo food, perché ci sarà anche da mangiare e cose del genere, esperienza, sicuramente è una scheda del personaggio, visto che questo gioco è articolato, ah, dietro c'è anche un'altra pagina, visto che questo gioco è articolato in vere e proprie campagne, sono convinto che il vostro personaggio passerà di livello, acquisterà abilità e cose del genere, ce n'è un bel po', comunque sono veramente tante. Un librettino chiamato Start Here, e praticamente questo libretto qui, vi dà le prime regolette essenziali per giocare, è un libro forse che, non vi dico se va a sostituire al rule book, perché non è assolutamente così, però magari è un rilogativo, una cosa veloce, avete presente il classico libretto, secondo me, che a volte ci mettono dentro come dire, non lo leggere il regolamento, la tua prima partita di prova, farla usando queste regole, o comunque, perlomeno è un zunto o qualcosa del genere, quindi, sicuramente mi leggerò prima questo qui, e tra l'altro ho fatto a striscetta lunga, bello largo come manuale, e poi, sotto, abbiamo il vero e proprio manuale del gioco, il rule book, con tutti quanti i disegni, dadi, token, e tu anche qui, madonna, i disegni sono bellissimi, ricordo che io ho la versione inglese, la versione italiana verrà presa dalla Giochi Uniti, ma non penso che vedrà la luce, prima di aprile, maggio, comunque del 2020, qualcosa del genere, seguite il sito della Giochi Uniti, e tra l'altro, ragazzi, tanto ci troveremo bene o male, tutti quanti allo stand, della Giochi Uniti, perché ne faranno vedere, se non ho capito male, una versione, o comunque la metteranno in esposizione, e perlomeno uno, anche se volesse andare a fare qualche domanda in più, allo stand della Giochi Uniti, insomma, è il momento giusto. Il libro, il giornale delle esplorazioni, che ora ve lo apro e ve lo faccio vedere, il libro delle esplorazioni, tipo con relegatura, qui laterale ad anelli, e questo qui dovrebbe essere, un po' come il manuale di, Grosso Guai a Chinatown, insomma, perché sappiamo che una componente fortissima, di Tainted Grail, è appunto la narrazione, perché è un gioco che fonde, il gioco da tavolo, ha una specie di gioco di ruolo, insomma, con una componente narrativa, molto ampia, tra l'altro sono uno sbotto di pagine, e qui vedo sì, ci sono i numeri di paragrafi, quindi sicuramente sarà qualcosa, che succederà, perché ho visto che muovendosi, sui tile di gioco, se ripeto ragazzi, l'ho ricevuto, ma non ho ancora guardato il manuale di gioco, però ho visto che bene o male, questi punti di riferimento qui, vanno sui riferimenti, che ci sono sui tile di gioco, quindi sicuramente sarà qualcosa, che andrà di pari passo, e qui ci sono segnate, tutte quante le cose, vabbè ma poi comunque lo vedremo sicuramente meglio, in un video a parte, i disegni sono bellissimi, guardate queste teste impalate, mamma mia, mamma mia, lettere, che ho visto ci sono vari nomi in cima, e penso che siano lettere scritte dai personaggi in gioco, quindi dai personaggi che andremo a muovere nell'avventura, mappe, quindi vedo che ce n'è quattro, qualcosa che sicuramente servirà a tenere sott'occhio, a tutti quanti i giocatori, non penso siano fatte per scriverci sopra o cose del genere, anche perché insomma poi a ristamparle, prendereste anche tutti quanti i colori, il layout, una cosa del genere, insomma verrebbe un po' uno schifio, planche dei personaggi, e poi ho visto che lei, questa Niam, sembra un guerriero scelta, qualcosa del genere, vedo che lei era fuori, queste qui sono tutte quante, imbussate, impacchettate, lei no, forse cos'è un personaggio speciale, qualcosa del genere, ci sta forse che fosse uno stretch goal, o qualcosa del genere, Dadi, è stato molto bellino anche i disegni che ci sono sopra e lo stile, bustina contenente Time Token e Quest Token, in due colori differenti, segnalini per segnare la vita, queste monete qui nel gioco vengono date come dials, che non so cosa possono servire, ma tanto lo scopriremo a breve, poi andrò ragazzi nello specifico, nei prossimi video a dire tutto quanto, comunque la componente di carte è disumana, ci sono vari mazzi, tra l'altro di varie dimensioni, le dimensioni le hanno fatte tutte, ecco per me, per imbustare tutte le carte che c'è dentro Tainted Grail, c'è da spenderci altrettanto come il gioco, ovviamente si scherza, però comunque, guardate queste, carte veramente di tutte le dimensioni, e addirittura qui dietro ci fa vedere la sequenza dei turni, inizio del giorno, fine del giorno, quindi penso che sia la fase di come gira il turno, bustina con dei large markers viola, così li porta il manuale, e questi qui invece due buste sono gli universal marker, ragazzi non le sto qui a tirare fuori, perché sono veramente 500.000, cioè questo un mazzo, questo un mazzo, questo un mazzo, anche questo, guardate veramente la molle di carte che c'è, dentro, ecco perché il peso della scatola di gioco del core box è così, le miniature dei menhir in sundrop, che questa è una cosa bellissima, perché guardate la qualità, e il sundrop, come hanno già usato anche per gli alieni di Nemesis, per gli intruders, è veramente bellissimo, però da una parte c'è la sofferenza di mia moglie, che fa, no, le volevo dipingere, perché ragazzi sono talmente, sono talmente tanto belle, che dai, a chi non verrebbe la voglia di dipingere, comunque l'effetto sundrop, che c'hanno sopra, è veramente spettacolare, ve ne faccio vedere un'altra, cioè guardate questo menhir, sembra un po' la santa muerte, se vogliamo è fatto veramente bene, e in mano c'ha un calice, presumo sia qualcosa, che va da rappresentare appunto il santo graal, ragazzi sono bellissime, ma poi sono grosse, sono grosse da morire, cioè guardate, a distanza, ecco la mano e tutto, questo da manuale, viene chiamato come fordweller model, quindi ragazzi ripeto, scusatemi tutto, però vi ho fatto l'unboxing, per farvi vedere cosa c'è dentro, non ho ancora letto il manuale, quindi ora appena chiudo il video, lo vado subito a leggere, miniature di due degli eroi, che sono dentro il core box, che sono Beor, e di qua Maggot, tra l'altro miniature bellissime, anche queste fatte in effetto sundrop, e tenendo un attimino, il buon Beor, guardate accanto, cioè per farvi vedere, le dimensioni, o tra l'altro anche con quell'altro personaggio, che abbiamo visto prima, quell'altro penso è NPC cattivone, guardate lì la differenza, ragazzi, io ripeto, l'ho fatto soltanto per fare un unboxing veloce, e farvi vedere tutto il resto, ora c'è una sorpresa, che è arrivata, e di questa sorpresa qui, ve la voglio far vedere alla fine, perché è qualcosa che mi ha dato un hype disumano, comunque ribadisco e ricordo, questa che ci è arrivata, è la core box sundrop, quindi chi di voi ha comprato la versione sundrop, senza tutti quanti gli stretch goal, l'espansione, mostro vavalon e cose del genere, gli arriverà questa qui, per la versione italiana, penso che dovremo attendere ancora qualche mese, anche perché, sinceramente, visto che è un gioco dalla forte narrativa, non ho nessun problema a giocare in inglese, però avere magari il manuale delle storie, tradotto in italiano, insomma farebbe un po' comodo, delle carte chi se ne frega, ma il manuale almeno servirebbe, a un certo punto, come vi ho fatto vedere precedentemente, apriamo il pacco, e c'era questo, Tainted Grail, sul price box, ho detto, ma andiamo a vedere un pochino cosa c'è all'interno, poi giro dall'altra parte, vedo ISS Vanguard, con questa nave che ricorda un po' la Normandy di Mass Effect, e ribadisco, ho visto un ragazzo, che tra l'altro conosco, che mi ha detto, sì ma si sapeva che la Wicked Reams, stava lavorando a questo progetto, io ignorantemente, non avevo seguito i social, né niente, e non lo sapevo, quindi quando ho visto questa cosa, ho detto, ma che è un'espansione di Nemesis? e ho detto, stai a vedere, stanno lavorando in un altro gioco spaziale, e io non vedo l'ora, perché è il mio genere preferito, vi faccio vedere cosa c'è dentro, prima di tutto, c'è questa lettera, chiusa, con un finto sigillo in cera lacca, che ora mia moglie apre, perché tanto se l'apro io spacco tutto, vediamo un po' cosa c'è, se pareva? E io sono molto maldestro, una cosa bellina, tra l'altro ho pensato molto, perché è firmata, quindi è come una specie di lettera di ringraziamento, anzi no, non è una specie, è una lettera di ringraziamento, che fa la Wicked Reams a tutti quanti i loro baker, ed è bellina, dai, ci sta veramente, l'almanacco di Avalon, che è un libro che esula da regolamento di gioco, però ci fa vedere tutta quanta l'ambientazione del gioco, e tra l'altro i disegni sono bellissimi, vabbè ovviamente Camelot che fai, non ce la metti, il regno di Re Artù, che se non erro era in cornovaglia, e qui ci fa vedere tutta quanta, insomma, questa è un osa che mi spulcio subito, me lo porto giù, perché c'è scritta praticamente tutta quanta l'ambientazione del gioco, e i disegni, fatti con uno stile molto particolare, mi piacciono da morire, e sono veramente spettacolari, vedete? E poi l'artbook di ISS Vanguard, che io quando l'ho visto, ripeto, ho detto, boh, che è sta roba via? Non lo sapevo, ammetto, e vado a vedere all'interno, anche qui, disegni spettacolari, sembrano presi un misto fra Mass Effect, l'ultimo soprattutto Andromeda, e No Man's Sky, come tipo di disegni, e qua giù dice, esplora le stelle, e ci dà un piccolo sunto di quello che sarà il gioco, praticamente è un gioco dove saremo un equipaggio di una nave, mandata a esplorare galassie, quindi addirittura galassie intere, e il gioco ci fa capire che saremo, ognuno di noi muoverà in modo asimmetrico un personaggio a bordo, quindi ricorda un po' Nemesis, il capitano, il soldato, l'ufficiale scientifico, cose del genere, dovremo ovviamente sviluppare il nostro personaggio, quindi anche questa avrà una modalità campagna, e ricorda un po', come in tutti i giochi della Wicked Reams, ricorda un po', anche ci mettono sempre con la componente GDR all'interno, e dovremo andare a fare spedizioni su pianeti, che potranno avere atmosfera, non averle, potremo trovare razze alieni amichevoli, invece o più ostili, che ci faranno battaglia, e cose del genere, qui ci dà un piccolo sunto di quello che sarà il gioco, e poi i disegni, a parte qui sembra di vedere un paio di rover su Marte, veramente stupendi, e i disegni che ci sono sopra ragazzi, sono qualcosa di pauroso, mi guarda anche lo stile con cui hanno creato la nave, la Vanguard, che è veramente veramente bello, e poi questi disegni qui, guardate che spettacolo, cioè veramente sembra, ho visto l'artbook, degli sketch di disegni che mi hanno fatto in preparazione per fare No Man's Sky, e sembra quello lì, bello, 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 qui si vede un pianeta con due lune, e poi vari paesaggi alieni, che ci sono nel mezzo, insomma ragazzi, questo, vi ce lo metto sopra, con i suoi personaggi, questo era un velocissimo unboxing di Tainted Grail, il video finisce qui, ripeto, è la prima volta che faccio una cosa del genere, penso, difficilmente le rifarò, perché mi galba a fare tutte in uno, però, insomma, è appena arrivata, c'è un hype della Madonna, e, insomma, l'ho fatto anche per farvi vedere un po' cosa c'era all'interno, fatemi sapere cosa ne pensate, e io spero che il video vi sia piaciuto, ciao ragazzi, alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!